il vangelo di matteo parla spesso del regno di dio del regno della vita regno della comunione la realtà più bella è questo regno che l'amore tra le persone come però possiamo entrare e rimanere in questo regno di dio in questo regno del corpo perché tutti siamo peccatori tutti ci facciamo del male tutti possiamo fallire chi tra di noi non si trova nell'uomo che resta in colera verso un altro uomo come abbiamo sentito oggi da siracide o chi non conserva rancore e rimane senza misericordia verso l'altro sempre siracide la risposta così a dirla è molto facile che nel regno di dio rimaniamo amandoci perdonandoci lo stesso siracide ci dice oggi perdona l'offesa al tuo prossimo smetti di odiare dimentica gli errori altrui bene ma uno si chiede ancora come come faccio e rispondiamo nella forza di quello che ricevo da dio nel salmo 103 abbiamo sentito oggi e li perdona tutte le tue colpe ti circonda di bontà e misericordia e li allontana da noi le nostre colpe e dunque quello che ricevo dal signore e la fonte per quello che io dopo faccio il mio fratello ma guardiamo ancora per un momento cosa ricevo dal signore qualcosa così grande che è difficile ad immaginare oggi abbiamo sentito parlare dice 10.000 talenti dunque 10.000 talenti e silvano fausti una volta ha fatto un calcolo quanto sarebbe questo questi 10.000 talenti e diceva così che un talento valeva circa 6.000 giorni di lavoro e 10.000 talenti sono così circa 60 milioni giorni di lavoro e se riposi un giorno all'anno questo sarebbe circa 200.000 anni di lavoro dunque 200.000 anni di lavoro questi 10.000 talenti ecco quando quanto ciascuno ricevuto da dio no quanto gli è stato dato è una somma proprio immensa che non puoi immaginare e questa somma cosa è mi ha creato l'uomo è stato creato all'immagine di dio e quando ho quasi distrutto quest'immagine così grande così bella mi ha perdonato dandomi ancora infinitamente di più cosa il suo figlio e nel suo figlio nel cristo mi ha perdonato per sempre e adesso io vorrei fare così ma non posso non riesco a perdonare neanche a quelli più vicini anzi dunque sempre la stessa domanda come fare non so come fare ma credo che possa aiutarmi molto molto piano l'amore proprio di quelli più vicini il loro amore verso di me io pecco in continuazione 70 volte 7 al giorno praticamente ogni minuto e l'altro mi perdona praticamente ogni minuto e così forse un giorno scopro che l'amore dell'altro è più grande dei miei errori che l'amore del corpo è più grande del mio peccato dunque scopro che mi salva il corpo la chiesa l'amicizia nella quale posso vivere una vittoria continua dell'amore che il perdono e ripetono dunque è la chiesa il corpo l'amicizia delle persone che stanno che stanno con me è questo che mi salva dunque qui dentro posso vivere una vittoria continua dell'amore che non è altro che che il perdono la misericordia e solo così possa rimanere nel corpo perché sono perdonato dallo stesso corpo sono amato dallo stesso corpo l'amore che stanno con me è questo che mi salva di un altro corpo è un'amore che è stato